Prende oggi il via la nuova stagione dei Biancazzurri che si raduneranno al Delfino Training Center per iniziare la preparazione dopo aver effettuato le visite mediche. Giovedì ci sarà la partenza per il ritiro di Palena dove la squadra resterà fino al prossimo 28 luglio. Sono una trentina i giocatori convocati dal tecnico Gaetano Auteri presso il quartier generale dell'Hotelec di Marina di Città Sant'Angelo. Fra questi i portieri Vincenzo Fiorillo, Nicolò Radaelli e Alessandro Sorrentino, difensori Gennaro Scognamiglio, Edoardo Masciangelo, Mardo Kenzita, Mirko Drudi, Frederick Sorensen, Edgar Elizalde, Gianluca Longobardi, Alessandro Celli. I centrocampisti Ledian Memusciai, Mirko Valdifiori, Massimiliano Busellato, Luca Crecco, Amadou Di Ambo, Nicolas Mercado, Marco D'Aloia, Simone Madonna, con gli attaccanti Cristian Galano, Cristian Bunino, Michele De Marchi, Andrea Di Grazia, Gennaro Borrelli, Marco Chiarella, Vladislav Blanuta e Milos Bosic. Sulle fronte mercato la società è molto attiva nelle prossime ore, dovranno essere concluse delle trattative in entrata. Per quanto riguarda il mercato della formazione bianca-azzurra, Zeppella e Ilianes dovrebbero diventare giocatori del Pescara nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece il settore di difesa, piace l'ex giocatore del Modena, Berzotti.